john cena salvato dalla pizza adesso vi spiego lasciato il nido di casa ancora molto giovane john si è trasferito nella zona di los angeles per frequentare una scuola di wrestling che si pagava con il denaro raccolto con i più disparati lavoretti insomma un giovane come tanti problema i conti non tornano le uscite sono più alte delle entrate e allora che fare ed ecco la soluzione un locale propone una sfida uomo contro cibo chi si pappa un'intera teglia di pizza non la paga per john è un ancora di salvezza si dà da fare si allena salta il pranzo e poi eccolo lì nelle ore serali a vincere a ripetizione la gara tanto da diventare una piccola attrazione speciale del ristorante il più delle volte non potrebbe nemmeno saldare il conto ma lo stomaco di ferro l'appetito bello sveglio e la qualità del nostro piatto nazionale fanno il resto ed ecco quindi svelato l'ingrediente segreto dei suoi muscoli d'acciaio grazie a tutti